Per Natale sicuramente continueremo a rimanere bianchi, su questo non ci sono dubbi. Dobbiamo aspettare giovedì per vedere gli ultimi dati, per ora i dati, come ha detto giustamente, aumentano i contagi ma non in maniera esponenziale i ricoveri. Quindi questa è la dimostrazione che i vaccini allontanano quantomeno dalle situazioni più gravi e quindi noi confidiamo di poter rimanere bianchi anche per Capodanno. Ciò detto, vedremo giovedì i dati, bisogna comunque ribadire e sottolineare come oltre alla necessità della vaccinazione ci vuole un minimo di attenzione, di precauzioni che ripetiamo costantemente ma che sono fondamentali per la battaglia al virus.